Silver Gillette presenta Uomini di domani I costruttori di gallerie, con la loro fatica ci stanno abbreviando le strade d'Europa Stiamo mettendo le centine per il rivestimento della galleria Com'è la roccia? Molto friabile, bisogna armarla continuamente E' molto che è qui sotto? Sono nato in galleria, sono figlio di minatori, mi trovo molto bene Qui è caduta la più grande barriera del mondo Sembra un gioco Oggi l'immenso Monte Bianco si sottopassa in 15 minuti Sto controllando il tenore di ossido di carbonio nel tunnel Qui sarà comando del Bianco Piazzola 22, subito pronti Questo è il cuore della galleria Da qui comandiamo la luce, l'aria, la velocità delle macchine, gli aiuti Va bene, monsieur, io vi envoio tutti i secoli Bianco e San Bernardo sono già aperti Ma altre immense gallerie sono in preparazione Senza balichi, senza aspre difficoltà stradali I popoli d'Europa fraternizzano più facilmente Questi sono gli uomini di domani Dinamici, moderni, pieni di entusiasmo Hanno un viso che ispira fiducia e simpatia Ma quanto dura quella lama? Se glielo dico non ci crede Addirittura E la provi allora Questa è Silver Gillette Un incredibile numero di rasature Buone? Buone Una dolcezza inimitabile Un piacere dalla prima all'ultima E questa pure è Gillette La nuova crema da barba Silver Gillette Un incredibile numero di rasature per sole 80 lire Silver Gillette Perché Gillette A la fórmula della ragazzura Perfecita Perfecita Perfecita